Allora, eccoci qui con cinque cuccioli scalmanati. Chiara, saranno tutti da te? Con te già abbiamo fatto, bellissimo. Quindi sono due maschi e tre femmine. Ok, due maschi e tre femmine nuovi, non abbiamo ancora nomi. Un maschio bianco e un maschio scuro, nero. Ok, nero focato. Ma ciao! Tu sei più belloso! Tutti all'attacco! Amore! Ciao! Ma non si mangiano le dita? Amore! Ma è lui che ha gli occhi chiari? Lei, lui? No, però loro... Aspetta, guarda! Tu ce li hai gli occhi chiari? Hanno gli occhi... Ah, nocciola, perché sono nocciola chiari. Nocciola! E lui ce li ha più chiari, guarda! Che c'è, amore? C'è il prinsino rosa! C'è tu? Che cosa c'è? Fatti vedere! Che cosa c'è? Guarda! Ciao, amore! Ma avete fame? Cosa c'è il prinsino di fare una foto? Qua? Vediamo se... Ehm... Lecco la corda che stava... Ah, ecco! Ho visto proprio il primo piano, se tu riesci. Ehm... Mentre noi stavamo da Roxas, loro giocavano con la corda, è vero? E tu sei maschietto, se non sento più nero, e tu che hai gli occhi gialli. E tu invece sei la femminuccia che ti mangi le manine. Non si vede, ma lui ha degli occhi particolari, molto nocciola giallo. Loro hanno, mi ricordo quando sono nati, 24 aprile, due mesi. Allora, hanno circa due mesi, futura taglia media. Aiutateci a condividerli, perché... Eh, circa comunque due mesi, perché sennò rischiano di crescere in canile. Da così gioiosi, diventano dei cani tristi e paurosi. E poi più crescono e purtroppo più diminuiscono le possibilità di adozione, purtroppo. E quindi, adesso che sono ancora dei patatini piccolini, cerchiamo di sistemarli tutti. Ehi, patatini! Ma che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che scodinzo che... Perché si vede che l'altra invece è più bianca. Invece lei è più bevolina. Stanno tra le gambe. C'era una pallina piccola. No, è il fiocchetto di Roxas, sta là. Dopo glieli mettiamo i fiocchetti. Sì, è vero. E mettiamoglieli subito, perché state già facendo le foto. Così segniamo anche, sull'agenda, segniamo chi ha un fiocchetto e chi ha un altro. L'assalto! Aspetta! Ok, vado. Allora, aspetta, aspetta. Stacco! Che aiuto Chiara a mettere i fiocchetti a questi terribili lini. Ma che volete? Guarda come sei bello! Oddio, oddio, oddio! Come siete belli! Allora, i maschietti sono uno scuro che gli mettiamo questo. Che dici del verde per l'altro, maschietto? O ti piace più il blu di Roxas? No, il verde pure va bene, perché l'altro è chiaro. Eh, infatti. Ok, e le più minucce invece facciamo. Ok, mettiamo i fiocchetti. Facciamo le più minucce. Loro sono sempre i bimbini di prima, solo che aveva messo il fiocchetto a tutti quanti. Ecco lì, si li mangiano tra di loro. Lei, bianca, elegantissima, deve andare a una cerimonia, vero? Dove vai tu? Dove vai? Sono tutti, tutti troppo carini. Lei ha le macchioline beige sul musetto, come i setter. Loro sono femmine tutti e due, adesso li distinguiamo subito. Poi ci sono vetti guibbanti. Lei è pure femminiccia. Guarda, adesso chi facciamo? Lui maschietto. Eh, lui pure. E' quello con gli occhi belli, che sono verdi, grigi, dal video non rende difficile. Poi c'è l'assalto, ogni tanto mi attaccano. Mi attaccano di bacini e morsetti. Ma lui ha degli occhi molto particolari. Lui col fiocchettino verde, il nosino un po' rosa. E' un po' rosa. Sono troppo carini. Troppo carini. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Eccoli. Quando lo metti un attimo a terra proviamo a fare un video che corrono tutti quanti. non è un po' rosa, non è un po' rosa. Vai, vivi. Vai, vivi. Corri, 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 corri. Stanno venendo da te, corri tu. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo. Corri, corri, corri. E tu piccolina. E tu piccolina? Vai, vai, vai. Piccoline. Eccoli. Ciao. Eccoli. Ciao. C'era giusto qualcuno, eh? Ma giusto proprio pochi pochi. Ciao, amori. Ciao. Corri, corri. Cicci. Vado a vedere te. Non la tiro, perché sono nascosti. Io, di amore. Che c'è? Mi sei abito tanto tu. Io faccio occhioni belli. Mamma mia, le occhioni bellissime. Occhioni bellissime. Ok, continuiamo con le foto. Con il servizio fotografico. Per questi bimbini con i pioccattini. Guarda gli occhi. Mamma mia. Sì. Guarda le panzelle. Con questi cuscinetti rosa. Mamma mia, come si fa? Ah. Peccato. Tutti questi cuccioletti qui. Ciao. È bellissimo. Ciao. 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 Ciao.